e in questo video tratterò in modo molto molto riassuntivo e con tre esempi quelle che sono le price rejection del mercato quindi ogni price action trader dovrebbe conoscere questo tipo di setup spesso dato da un last kiss confermato con una candela una forma come struttura di pin bar, pinocchio bar ma che ovviamente crea una price rejection come viene detto in gergo tecnico quindi un rifiuto dei prezzi allora ho tirato fuori nell'ultimo anno e mezzo quello che ha fatto euro dollaro tra l'altro in alcuni casi ho fatto anche dei trade su queste price rejection e sono tre la prima si è venuta a verificare sempre su un grafico o daily o weekly ovviamente dobbiamo sempre trattare la price action su daily o weekly mi raccomando poi magari si possono anche trovare delle dinamiche di conferma o vedere come si muove il prezzo su un 4 ore ma mi raccomando sempre daily e weekly come trigger principale e studio della struttura allora abbiamo vedete questa situazione dove c'è questa qui eccola qui questa è la price rejection quindi abbiamo un movimento verso l'altro abbiamo svariati massimi in questo caso sono tre massimi dove il prezzo dell'euro dollaro sale 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 e poi rientra e quindi fa una price rejection quindi un rifiuto del prezzo di rimanere a tenere le zone di breakout che aveva avuto proprio nel momento in cui era salito se ci pensate in questo caso la giornata sarebbe stata una giornata verde una giornata bullish compratori di euro che vincono la sfida diciamo della giornata in realtà poi c'è questo ritorno quindi questa price rejection verso il basso quindi rientro dentro il livello che in questo caso sarebbe stato 11 930 e quindi questo quindi poi ci si può attivare con un entrare sul mercato tendenzialmente è meglio verso sera o addirittura il giorno successivo quindi quando ormai la giornata si è conclusa o addirittura quando è completamente completata questa è la prima price rejection in questo caso ci indica la possibilità di metterci short sul mercato magari con obiettivo questa zona ok quindi l'obiettivo poi ovviamente che questo non è il luogo non è il video che vi parla degli obiettivi di come gestire la posizione è importantissimo ma ne ho fatti svariati di questo questo è proprio un video pillola dedicato alle price rejection poi che cosa succede? succede che in realtà abbiamo anche una price rejection bullish perché se noi andiamo a prendere qui questa qui questa è un'altra price rejection però in questo caso indica la volontà dei compratori ad essere coloro che vincono la sfida sul mercato della domanda dell'offerta eccolo qui vedete che va a sfalsare questo minimo in area 1.16.10 con un recupero e una chiusura assolutamente bullish assolutamente dentro vedete come qua rientra qui rientra assolutamente facendo una falsa rottura in questo caso più piccolina rispetto a questa ma sempre molto incisiva perché questi erano i minimi importanti perché bisogna dire che di false rotture o di rejection del prezzo ce ne sono svariate sul mercato però poi bisogna vedere che tipo di candela si è formata a volte possono essere anche di diverso tipo e soprattutto quel minimo lì o quel massimo lì era seriamente importante per il mercato ecco questo è fondamentale nel poi attivarci long o short su questo tipo di trigger diciamo su questo tipo di segnale chiamiamolo come volete del mercato quindi in questo caso specifico anche qui price rejection verso il basso recupero anche qui poi ci si può attivare con un long e in questo caso mi viene da definire il primo punto di profitto ancora qui perché era la zona quella dove in precedenza c'era stato rifiuto ecco per esempio questo può diventare assolutamente interessante come punto di presa profitto qualora si vada a entrare un po' su queste zone long vedete come non serve a volte noto che vi andate a complicare la vita con cose molto difficili alla fine il mercato al massimo non vi dà ragione diciamo così è brutto ma si chiude in perdita è solo la posizione poco male si ha accettato un rischio prima un investimento prima e al massimo si chiude in perdita e molto semplicemente qui l'informazione quando te la dà così vi assicuro che è un'informazione molto interessante per esempio guardate qui questo tipo di dinamica seppur può essere comunque riferita a una price rejection perché vedete rifiuta questi però vedete non fuoriesce dai minimi importanti che aveva tenuto sul prezzo fuoriesce solo da questi in questo caso in effetti poi il mercato è venuto giù però ci sono anche gli stop insomma non è che tutte le posizioni di questo tipo vanno a profitto deve uscire cercate sempre di capire deve uscire o comunque far far spingere al massimo al minimo su massimi minimi importanti diciamo no quindi quelli che nell'ultimo periodo sono stati diciamo dei riferimenti di massimo e minimo come in questo caso qui in questo caso qui e in questo caso qui questo non qui ok quindi l'avesse fatto qui bisognava stare un po' attenti magari accettare delle conferme se poi saliva prima perché ci sta no in questo caso questo era poi ce n'è un altro ultimo sempre short in questo caso che si è venuto a verificare qui molto chiaro anche qui lo notate abbastanza chiaramente qui come potete notare abbiamo iniziato una tendenza ribassista nel breve il massimo più importante è questo poi c'è l'altro massimo importante che è questo no? quindi un mercato che sta scendendo crea un massimo che poi fa swing importante crea un ribasso importante ecco che lui va qui qui non fa guardate un po' qui non fa una price rejection fa una pin bar ma non fa una price rejection quindi attenzione non credo si possa fare ma attenzione questa è una price rejection vedete come fuoriesce in questo caso rompe questo addirittura viola anche questo e poi scende e ci ritroviamo tranquillamente verso praticamente le chiusure quindi i livelli 1.21.70 in questo caso e quindi poi all'ortura del minimo c'è il movimento che crea questo e poi crea questo e poi insomma in questo caso va anche molto più giù però per tanto per farvi capire come è importante e anche abbastanza insomma con un po' di allenamento un po' di sensibilità un po' di esperienza non troppo difficile da riuscire a intercettare questo tipo di informazione della price action quindi questa price rejection questo allungamento e rientro su massimi e minimi che nell'ultimo periodo sono stati importanti quindi guardate la figura sempre almeno di qualche settimana qualche mese per capire dove siamo e questo può diventare sicuramente un classico input trigger molto interessante che tendenzialmente può fare dei buoni trade sempre ovviamente nell'ottica poi di gestione del rischio perché poi in questo caso ovviamente magari ci si può accompagnare con un massimo investimento qui quindi il massimo punto di uscita al mercato è qui ma sapendo che se il mercato fuoriesce in maniera pesante quindi magari con una candela pesante qui e poi la conferma si esce prima ovviamente si chiude in loss perché anche questi tipo di trigger possono subire a volte delle perdite ovviamente quindi andare dall'opposto però tendenzialmente viste con la contestualizzazione adatta in linea generale sono sicuramente interessanti allora prima di salutarvi come al solito vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se non siete iscritti e questo canale vi può interessare di attivare la campanella perché in questo caso così potrete ricevere tutte le notifiche di video e dirette che facciamo e per ultimo ma non per ultimo se vi è piaciuto e vi può supportare nella vostra operatività di lasciare un mi piace perché non costa nulla io a questo punto vi saluto vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti